No, Regina, gente, stiamo andando alla casa cantoniera. Il cancello si è bloccato. Eh, benissimo. Non riesco... Sì che è piccolo dentro, però da vedere. E non si riesce a entrare, Vicente. Ma forse si è bloccato. Qualcuno l'altro. Magari, forse, qualcuno. Guarda, tutto... Sì, quanto tempo, mi è tutto demolito, guarda. Guarda il soffitto. Mi è a metà. Guarda, guarda. Vedi? Metà è tutto, guarda. Guarda, guarda. Via. Cosa saranno queste piante? Non lo so. Eh, facciamo una qua davanti. Vedi, gente, non posso... Guardate. Quello che posso fare a casa cantoniera. Quello che ho potuto fare, gente... Meno dentro. Meno dentro. Ma porco. Ma facciamo anche male. Non lo dirmi. E non lo dirmi. Vabbè. Non dirmi che quello lì... che... Vabbè. Non lo dirmi che quello lì non si riuscì. Vabbè.